Siamo con Davide Azzalin della San Luigi Cormano, oggi una vittoria importantissima, 2-0 contro il Vittoria Capolista, una grande prestazione, impreziosita da una tua punizione nel primo tempo che ha aperto le danze. Sei soddisfatto della prestazione? Sono super soddisfatto, siamo una grande squadra, stiamo lavorando bene e i risultati stanno arrivando, il sacrificio paga sempre. Sì, è un periodo molto positivo per voi, la squadra ha completamente cambiato registro, questo è il quinto risultato utile consecutivo, 4 vittorie e un pareggio, insomma qual è stato il fattore che ha cambiato, ha dato una svolta alla vostra stagione? Abbiamo trovato un'ossatura di squadra che sta mantenendo in tutte le partite più o meno lo stesso registro, lavoriamo bene durante gli allenamenti, ci impegniamo tutti e tendenzialmente tutti andiamo verso lo stesso obiettivo, questo è quello che ci sta facendo avere questi risultati. Sì, ha dato una sconfitta un po' sfortunata, 2-1 col vittoria maturata negli ultimi minuti, a livello tattico cosa avete cambiato oggi? A livello tattico abbiamo aspettato l'avversario, sapevamo che loro sono molto forti, sono la prima in classifica e giocano veramente bene, quindi anche onore agli avversari. La partita l'abbiamo studiata bene in allenamento e abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Va bene, ti ringrazio molto. Volevo fare una dedica, la dedica della vittoria la dedico a Cavaliere Androni che ci dà sempre sconfitti e quindi di continuare così, poi noi i risultati diamo sul campo. Va bene, ti ringrazio. Ciao, saluto. Stiamo arrivando, stiamo arrivando!